Per la prima volta Itachi Cooling & Heating alla Milano Design Week. Ci troviamo in Corso Vittorio Emanuele, cuore pulsante di Milano, a pochi passi dal luogo. Sopra di noi un enorme LED wall di 123 metri quadri dove va in scena uno straordinario show 3D in prima visione assoluta per la Milano Design Week. Itachi per la prima volta utilizza un LED wall che sfrutta l'anamorfismo, una tecnologia del tutto nuova grazie alla quale chi guarda il LED wall ha quasi l'impressione di toccare con mano la grafica che emerge letteralmente dal LED wall. Una comunicazione digital out of home di impatto assolutamente innovativa e abbiamo scelto di dedicare al nostro pannello di design Silent Iconic per la nostra cassetta 4 vie che risolve le esigenze di estetica, di architetti e design. Da Tokyo, dove la cassetta e il pannello Silent Iconic sono stati progettati e realizzati, a Milano per voi in esclusiva alla Milano Design Week. Grazie a tutti.